Ah, mi son chiodato. Ancora? Ma chi sospetterebbe mai una bandi e quattro viecchero in goglioni? La nostra sarà una rapina con destrezza, ovvero non avremo bisogno di armi. Ma come? Io avevo portato la colpa. Guardate in questa cassaforte, che cassaforte ho? Non lo sappiamo noi, che cazzo. Voi due manco cagliava a aprire una cassaforte. In questa busta ci saranno tutte le fotografie che mi avete chiesto. Dovrebbe essere una combinazione a quattro cifre. Vai. Maria, tu fai pinta di svenire distraendo la sorveglianza. Ah, ho un mancamento, ah! Mariano! Scusi, sei stata sul banalecchia qua! Ma c'è tua! Comunicare firma con sms in codice. Opzioni, scrittura. Sanogam. Disabilita T9. Bingo! Sara, ma a me pare che è stato facendo un luogo troppo facile, però, eh? È meglio un giorno delle uni che mille da pecora. Sì pronto? Non ti scordate che io sono napolitano molto prima di te. Un saccio, un saccio. E io lo bello, eh? Ho. Cheia! Ciao!